Noi si settaggi Noi si esce i settaggi Ma quali impostazioni usi? Settaggi usi su Rust? Le grafica usi su Rust? Prego troppe settaggi Ci servono i settaggi Noi Fai un video sui settaggi Fai un video sulle impostazioni su Rust Settaggi, 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 settaggi Settaggi, va bene, ok Il tuo Rust fa schifo Ma hey, tranquillo ci sono qua io a migliorarti la giornata Ed aumentare i tuoi FPS mentre giochi Ma prima di iniziare a schippare avanti e indietro il video Un piccolo disclaimer Purtroppo non ho la sfera di cristallo E non ho altri superpoteri per conoscere il tuo PC E ancora peggio sono un'enorme frana nella conoscenza dei componenti Quindi non so effettivamente quanto ti possa aiutare la parte dell'ottimizzazione Ma hey, voi avete chiesto e io vi rispondo Partiamo subito ottimizzando il nostro Windows Io in questo caso sto utilizzando il 10 quindi ottimizzerò Windows 10 Prima di andare a smanettare con i settaggi Windows Dobbiamo creare un punto di ripristino in caso succeda qualcosa Quindi andiamo sulla barra di ricerca e scriviamo ripristino Crea un punto di ripristino Clicchiamo su crea e diamo un nome al nostro punto di ripristino Per esempio Windows oggi è 01, 02, 24 E clicchiamo su crea Io non lo faccio perché comunque l'avevo già fatto Dopo aver cliccato su crea se vogliamo vedere i nostri punti di ripristino Clicchiamo su ripristino configurazione di sistema Andiamo avanti E qua vi appariranno i punti di ripristino che avete creato In caso succeda qualcosa venite in questa schermata e ripristinate il computer da quello che avete creato Chiudiamo Adesso andiamo a fare un'operazione che di solito faccio una volta ogni due giorni per esempio Che sarebbe quella di eliminare i file temporanei dal computer Siccome io utilizzo un sacco di programmi di editing Queste cartelle mi si riempiono un sacco Ora magari voi non dovete farlo una volta ogni due giorni Però comunque è bene abituarsi ad imparare questi comandi e farli ogni tanto Cosa facciamo? Clicchiamo il tasto Windows più R Ci si aprirà questa iconcina qua Dell'esegui E cominciamo Sono tre operazioni uguali Scriviamo temp E premiamo invio Si aprirà una cartella di file temporanei Facciamo CTRL A Selezioniamo tutto Tasto destro E andiamo ad eliminare Quando viene fuori questo messaggio qui È importante selezionare Esegui questa operazione per tutti gli elementi E andare su ignora Perché questi sono i file che vi servono effettivamente per il vostro computer Quindi mi raccomando non sbagliate questa cosa qui Esegui questa operazione e ignora Fatta la prima cartella E eseguiamo la stessa operazione per un'altra cartella Quindi Windows più R E andiamo a scrivere Percentuale Temp Percentuale E apriamo un'altra cartella di file temporanei CTRL A Tasto destro Elimina Mi raccomando qua Non sbagliate raga Perché se cancellate queste cartelle Sicuramente il computer comincia a darvi dei problemi Quindi spuntiamo Esegui E facciamo ignora Esegui Ignora Ok Una volta fatto per la seconda cartella Apriamo di nuovo l'esegui E scriviamo Pre-effect CH Clicchiamo su continua E questa è l'ultima È la terza e ultima cartella di file temporanei Che dobbiamo eliminare Esegui Ignora Mi raccomando raga Non sbagliate Ok E la parte dei file temporanei è fatta Questa parte qui Mi raccomando fatela Non so una volta a settimana Per liberarvi un po' di spazio sul computer La cosa successiva che andremo a fare È iscriverci al canale di Noise 10% in più di FPS sul gioco Come passo successivo Andiamo sulle impostazioni E da qui cominciamo a fare Una serie di cose Andiamo a cliccare su sistema Alimentazione e sospensione Impostazioni di risparmio e energie aggiuntive Dovete assicurarvi che l'opzione prestazione elevate sia spuntata Ovviamente il computer consumerà di più Quindi se abitate con i vostri genitori Vi tireranno una sculacciata Ma vabbè a noi interessano gli FPS Quindi prestazione elevate Poi una seconda cosa che possiamo fare È andare su specifica comportamento E in questa tab dobbiamo despuntare Attiva avvio rapido In quanto se a volte riavviate il computer In realtà se questa punta è spuntata Il computer a volte non si riavvia del tutto E quindi continua ad essere acceso Quindi per fare questo andiamo su modifiche le impostazioni Ci si attiverà la possibilità di despuntare e spuntare le scelte E qua se avete attiva avvio rapido la despuntate Fate salva cambiamenti e potete chiudere Torniamo su home Questa volta andiamo sempre su sistema Archiviazione Se non l'avete fatto attivate il sensore di memoria Che vi cancella automaticamente i file temporanei E il contenuto del cestino Lo andiamo a configurare Quindi configura sensore di memoria Lo attivate qui E io per esempio ho messo ogni settimana Ma potete scegliere ogni mese, ogni giorno addirittura Torniamo su home Andiamo di nuovo su sistema E se non lo utilizzate Disabilitate il remote desktop Che è una funzione in più che magari non vi serve Io purtroppo devo tenerlo acceso Perché comunque lavorando fuori posso collegarmi anche sul mio computer Quindi mi serve acceso Però se a voi non serve collegarvi sul vostro computer quando siete fuori Potete disabilitarlo tranquillamente Ha una funzione in più che può benissimo essere spenta Tornando sulla pagina home Andiamo su dispositivi Clicchiamo su mouse Andiamo su opzioni aggiuntive per il mouse Andiamo su opzioni puntatore E dobbiamo assicurarci che questa spunta aumenta la precisione puntatore Sia off In quanto la mouse acceleration nei videogiochi non va assolutamente bene Perché vi dà problemi di velocità col mouse Nel senso che se fate un movimento veloce Il mouse va più a destra o più a sinistra Invece despuntando questa selezione il mouse sarà preciso dove puntate Se dovete impostare la vostra sensibilità e i dpi del mouse Mi raccomando usate i programmi che vi vengono forniti con il mouse che comprate Io in questo caso ho Logitech Andrò sul mio G-Hub e selezionerò i dpi e la sensibilità E poi la andrò anche a modificare in game Chiudiamo qui Sempre sulla schermata home andiamo a togliere la trasparenza nelle varie tab che apriamo di Windows Quindi andiamo su personalizzazione Andiamo su colori Andiamo giù e troviamo effetti di trasparenza Questo lo disattiviamo Torniamo indietro La prossima cosa che andiamo a fare è Andiamo su app Andiamo su avvio Io qua non so raga Penso di avere qualche problema su Windows Dovrebbe darvi una lista delle applicazioni che potete avviare all'avvio proprio del computer Il mio suggerimento è di disattivare le applicazioni che non vi servono Tipo non so Spotify per esempio Avete Spotify sul computer Magari lo avviate voi al posto che farlo avviare al computer quando lo accendete Quindi disattivate tutti i programmi che sono inutili Come per esempio gli altri launcher dei videogiochi Se volete giocare a un altro videogioco vi aprite il launcher Così evitate di aprire 700.000 cose quando avviate il computer E aprite solo quello che vi serve quando vi serve Un'altra cosa importante Se giocate a Valorant Il Vanguard purtroppo deve essere disattivato quando giocate Rust Perché veramente vi ciuccia un sacco di FPS in più Io in questo momento non gioco a Valorant Non posso farvi vedere Però se andate qua sotto Vi apparirà l'icona di Vanguard Fate il tasto destro e lo disattivate Uscite Ovviamente se dovete giocare a Valorant dovete riavviare il computer Però questo vi fa recuperare un po' di performance se dovete giocare a Rust Un'altra cosa che andiamo a fare è modificare l'apparenza del nostro Windows Per renderlo un po' più leggero Quindi andiamo sulla barra di ricerca E digitiamo aspetto E modifica l'aspetto e le prestazioni di Windows Se non avete mai aperto questa tab Probabilmente avrete tutto spuntato qui Il mio consiglio è di selezionare personalizzate E attivare solo queste qua che ho attivato anche io Quindi attiva pick Mostra anteprime anziché icone Mostra contenuto della finestra durante l'operazione di trascinamento E smussa gli angoli dei caratteri dello schermo Chiudiamo Altra cosa Andiamo subito su impostazioni Andiamo su giochi E mi raccomando Questo game bar deve essere disabilitato Disabilitato e disabilitato Perché vi ciccia un sacco di performance Successivamente andiamo su modalità gioco Questo è a preferenza Diciamo che è da testare un po' con le vostre macchine Però io lo preferisco attivato Perché comunque vedo che dà un'ottimizzazione ai giochi Quando lo utilizzo Quindi provatelo attivato o disattivato Io comunque lo consiglio attivato Da questa tab andiamo a fare una piccola cosa Ovvero impostazioni grafica Dobbiamo assolutamente attivare l'accelerazione hardware Quindi se l'avete disabilitata Attivatela Dovrete sicuramente riavviare il computer Poi successivamente Spostiamo un attimo la nostra tab qui Andiamo sul nostro Steam Andiamo sulla libreria del nostro Steam Andiamo su Rust Tasto destro Gestisci Sfoglie file locali E prendiamo la cartella di installazione Di tutti i file di Rust Copiamo il percorso della cartella Torniamo su impostazioni grafica Andiamo su sfoglia Io ce l'ho già Però comunque andate a copiare il percorso della cartella di Rust Clicchiamo su Rust client E facciamo aggiungi Successivamente facciamo opzioni E mettiamo prestazioni elevate L'ultimissima cosa che andiamo a fare è andare ad aprire le impostazioni di nuovo Andare su privacy e despuntare tutta questa roba qua che non vi serve Vediamo velocemente anche le impostazioni di Nvidia che utilizzo Quindi tasto destro, pannello di controllo Nvidia Andiamo sulla prima voce, regola bla 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 E utilizziamo usa le impostazioni dell'immagine 3D avanzate Scendiamo sotto Gestisci E qua non ve le elenco tutte però potete copiarvele Passo passo E ok Queste non ci interessano La risoluzione Se volete i colori un po' più bustati Andate qua sotto Brillantezza digitale E aumentate Io lo uso al 70-80 di solito Vi rende il gioco un po' più colorato Fate applica Qua sono cose che non ci interessano Questa è l'unica cosa che potrebbe interessarci Regola dimensione e posizione del desktop Mettiamo schermo intero qua E ok Chiudiamo Adesso andiamo ad effettuare delle ottimizzazioni sulla cartella di installazione di Rust Quindi andiamo su Steam, libreria, Rust, gestisci, sfoglie file locali Ci fiondiamo sui due exe nella cartella di Rust Quindi rust.exe Tasto destro Proprietà Compatibilità E spuntiamo disabilità ottimizzazione schermo Clicchiamo su modifica impostazioni dpi E spuntiamo esegui l'override Ok Applica Ok Andiamo su Rust client Stessa cosa Proprietà Compatibilità Disabilità ottimizzazione schermo E in più spuntiamo anche esegui questo programma come amministratore Modifica impostazioni dpi Esegui l'override Ok Applica Ok Successivamente apriamo l'applicazione di Steam Andiamo sulla nostra libreria Andiamo su Rust Andiamo su proprietà E andiamo ad inserire delle opzioni di avvio Vi lascio in descrizione questa stringa E vi spiego velocemente che cosa serve I primi due penso siano dei comandi per dare la priorità sul gioco quando è attivo Led l'herp invece è la velocità con cui la testa vi torna a posto Quando usate l'alt per guardarvi a destra e a sinistra in gioco Io utilizzo 5 Oppure potete metterlo velocissimo mettendo un numero altissimo tipo 100 Graphics Wave 0 serve per disattivare le onde Anche se non so effettivamente se sta funzionando in questo periodo Max Gibbs 01 serve per non far rimanere i rimasugli per esempio quando l'hai dato un muro Sparisce tutto quanto oppure una porta E l'unico settaggio che dovrete andare a cambiare forse è il Max Memory Vi lascio qua in sovraimpressione In base alla vostra RAM che numero dovete mettere qua alla fine Io ho 32 GB di RAM quindi metterò questo numero qua Se voi avete altra RAM dovete mettere questi altri numeri qui Chiudiamo e finalmente possiamo entrare in game Siamo in gioco Prima di tutto metto la lingua in italiano Così potrete seguirmi passo passo Andiamo su opzioni Non vi spiegherò tutto cosa funziona perché sennò viene fuori un video lunghissimo Però vi farò vedere che cosa utilizzo io e qualcosina magari ve la spiego Campo visivo al massimo Headbob assolutamente off Mirino io lo utilizzo off perché utilizzo un'applicazione esterna che è Crossair X per il mirino centrale Hitcross se vi piace potete utilizzarlo A me personalmente non mi piace Mi sono abituato a sentire l'audio delle hit non visivamente Heartflash assolutamente da togliere perché vi dà un sacco fastidio quando venite hittati da qualcun altro Bustola on, basic, off Regalo un sacco a pelo a anyone Sulla censura io utilizzo la nudità underwear Nascondi i cartelli in realtà dovrei mettere on perché è meglio Però decidete voi on off Mostra sangue lo utilizzo on per rendermi conto effettivamente se sono low HP o meno Però comunque vi dà sul monitor queste sporcature che potrebbero darvi fastidio Se vi danno fastidio mettetelo pure off Anzi anch'io dovrei utilizzarlo off per avere sempre la miglior visibilità e non farmi condizionare dal fatto che sono low HP per magari fare una giocata Soprannomi di Steam se avete soprannominato i vostri amici utilizzate on Sulla fisica non toccate nulla perché avete già messo il comando maxgibs-1 delle opzioni di avvio E qua mettete off e andiamo su interfaccia utente La UI io la uso a 0.7 Ovviamente mostra, mostranomi e modello giocatore inventario Sull'audio io utilizzo 1 Volume voci più o meno così E volume suoni di gioco 1 Stereo Su contralli per la sense se dovete impostare al meglio non utilizzate questa barra che è imprecisa Mandate su F1 e scrivete input.sensivity E scrivete la vostra sense Io per esempio uso 0.23 quindi andrò a scrivere 0.23 E ok così ve la imposta Qua scorriamo giù Io per il saccaggio rapido utilizzo un tasto del mouse o non l'h che è di default perché mi trovo meglio Schermo 1920x1080 Full screen Limite fps ovviamente al massimo E queste due opzioni off off Andiamo su grafica che è la cosa che vi interessa di più Qualità grafica io uso AIG Scala di rendering 1 DLSS off Qualità delle ombre off No cascade Max ombre 0 Qualità dell'acqua 1 Riflessi dell'acqua 0 Shader uso 200 Distanza visiva ho un bind che mi permette di aumentarla e diminuirla Potete lasciarla anche a 0 in realtà Non è indispensabile Qua tutto giù Off 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 Erba animata on Se vi cade l'arma per terra sposterà l'erba quindi magari la trovate meglio Nvidia reflex on più boost E poi andiamo particelle off Qualità oggetto 20 Qualità alberi Trama e qualità terreno Uso tutto al massimo Ne ho su effetti immagine Io uso l'anti-aliasing SMAA E in più uso la nitidezza che sarebbe lo sharpen e lo uso on Su sperimentale Il caricamento ottimizzato uso parziale Questo se vi dà problemi toglietelo Perché serve per caricare più velocemente il server E il buffer dipende da quanta RAM avete Io siccome ho 32 GB di RAM lo uso al massimo I miei settaggi non sono per avere un gioco bello da vedere Ma è un giusto compromesso tra performance, visibilità e dettagli grafici Che comunque mi piacciono all'interno del game Inoltre in descrizione potrete trovare il nostro link al canale Discord BratanHub Dove se entrate e scorrete giù Andate su Bynes Alex ci ha fatto il grandissimo favore di riassumere tutti i Bynes che utilizziamo E ha inserito come si attivano e a che cosa servono Quindi raga mi raccomando entrate nel Discord Inoltre in descrizione potrete trovare anche il nostro link per il canale Telegram Vi arrivano le notifiche quando magari siamo live O magari quando esce un nuovo video Parliamo di Rust, chiacchieriamo delle novità Quindi raga se volete far community e supportarci al meglio Entrate nel Telegram Ok direi che è tutto Io spero che dopo queste piccole cose il vostro Rust giri meglio e faccia più FPS Se non lo fa probabilmente dovrete cambiare computer Se tutto questo ti ha servito anche un minimo Mi raccomando iscriviti al canale Da Noiz è tutto E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao 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 Ciao